A Contrada Macchia incivili scaricano nelle campagne bustoni con trenti rifiuti o abbandonano immondizie lungo la strada. Una beffa per i residenti che da tempo lottano contro l'isolamento della zona. Il suo essere lanciato da Camine Mazza che chiede una maggiore attenzione anche per la manutenzione delle strade, come vedete dalle immagini ridotte a Colabrodu. Abbiamo gente che ormai conosce la zona per poter sversare rifiuti di tutti i tipi e quindi noi siamo costretti a volte anche a passare in mezzo all'immondizia. Oltretutto oggi siamo presi di mira anche nelle nostre campagne, non solo nella strada ma anche nelle nostre campagne la gente può dell'immediato buttare buste dell'immondizia nelle nostre campagne. perché noi oltre a pulire i residui vegetali dobbiamo poi smaltire quello che è poi residuo di gente incivile. Voi chiedete le telecamere per... Sì, se c'è possibilità delle telecamere in zona in modo meramente in punti dove maggiormente la gente può sversare questi rifiuti. Poi abbiamo l'illuminazione che alcuni punti si sono lotti, campioni e quindi non c'è appunto il sopralluogo tecnico appunto per verificare ciò che avviene. Sia in periodi di pioggia, in periodi di tempo buono, questo purtroppo noi, come vedete, siamo partiti dalla piazzetta ad arrivare qui. Tutto quando la strada è completamente indagisabile.